E andiamo ora a sentire il primo firmatario della proposta di legge sui padri separati, il consigliere regionale Antonio Saggese, a seguire invece la consigliera Silvana Saita. Consigliere Saggese, oggi è stata presentata una proposta di legge a cui lei sta particolarmente a cuore. Sì, mi sta particolarmente a cuore perché io provengo dall'associazionismo, sono un esponente della lista civica Maroni Presidente che ha raccolto esponenti della società civile, dell'associazionismo lombardo e nella fattispecie io provengo da un'associazione che ha sempre guardato con attenzione e sensibilità i problemi delle famiglie che purtroppo si disgregano e dei minori che sono coinvolti. Ho sempre guardato questo problema e sono felice di essere stato il primo firmatario di una proposta di legge finalizzata a risolvere i problemi che queste famiglie purtroppo accusano. Si intende intervenire dando una casa a chi la perde, si intende intervenire dando un sostegno economico a chi non riceve il mantenimento, si intende intervenire attraverso centri di assistenza e di mediazione familiare che aiutino la coppia nel ridigere un progetto educativo che vada nell'interesse esclusivo del minore affinché sia sempre salvaguardato il suo diritto alla bigenitorialità, cioè ad avere sempre due genitori e mi permetta anche di aggiungere, e quattro nonni. Nella proposta di legge tra i vari temi trattati uno è quello della casa, forse uno dei più scottanti e difficili? Sì, è uno dei più difficili perché se sono molti gli articoli che noi abbiamo avuto modo di leggere sulla stampa che special fatti in televisione, ma lo porto anche come un'esperienza diretta all'insegna della vita associativa che è stata sviluppata negli anni precedenti, sono molte le persone che si trovano a dormire in auto presso gli enti caritatevoli o che ritornano, parliamo di quarantenni, che ritornano presso la famiglia di origine. In questi contesti un genitore non può fare il genitore. Io faccio fatica a pensare a crescere dei figli, a fare il papà dei miei figli se mi dovessi trovare a dormire in un'auto, probabilmente avrei delle gravi e grandi difficoltà. Ecco, noi dobbiamo intervenire su queste soluzioni, dobbiamo mettere in grado tutti e due i genitori di poter fare, nell'interesse esclusivo dei figli, di poter svolgere in maniera adeguata il proprio ruolo. E l'intervento della casa va proprio in questa direzione. Come intendiamo intervenire? Intendiamo intervenire equiparando la sentenza di separazione allo sfratto esecutivo affinché ci sia un punteggio premiale in graduatoria per l'assegnazione di alloggi popolari. Una legge particolare, quella di Regione Lombardia, una legge molto avanti? Sì, questo sì, perché oggi bisogna, mano a mano si lavora, considerare il contesto attuale e quindi fare una legge che sia proiettata per il futuro, non che quando va in applicazione sia già vecchia e desueta. Questa è stata la logica che ci ha spinto a pensare oltre. Attenzione, attenzione ai genitori separati, attenzione anche ai figli. Sì, io direi in questo triangolo l'attenzione deve essere prima ai figli. Dunque, conseguentemente, tutte queste agevolazioni date ai genitori o al genitore più debole, per come prassi i bambini vengono, se sono piccoli, assegnate alla mamma e il genitore, papà, resta più fragile fuori dalla casa. Quindi questo accudimento, tra virgolette, limitato e nel tempo è perché possa mantenere la serenità rispetto alla separazione, che è sempre un dramma. Lei come sindaco ha fatto presente che anche nel suo comune c'erano presenti casi del genere, in aumento. Sì, sono in aumento e non capisco perché. Considero che molto probabilmente possa essere anche dovuto alle difficoltà del vivere oggi, alle difficoltà del trovare lavoro, alla non serenità di stare insieme e quindi le relazioni si sfilacciano e il grande amore, invece di farlo crescere con le difficoltà, a volte qualcuno lo sotterra.